Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Quella che vedete qui alla mia sinistra è una lavapavimenti di, indovinate un po', EasyVids. EasyVids la conosciamo in realtà all'inizio per le action cam, era il 2015-2016 quando ha fatto debuttare le sue prime action cam, che all'epoca non erano neanche malaccio. Dopodiché ha traslato tutto il business su videocitofoni, videocamere di sorveglianza, e sempre qui sul mio canale ne abbiamo visti un po', di recente ha sfornato in realtà questa lavapavimenti e un aspirapolvere senza fili. Anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che la provi. Appena l'ho vista ho detto beh proviamola, chissà com'è. E devo dire che non è malaccio, anche se ci sono ovviamente dei punti che sono sicuramente migliorabili. Ma prima di continuare, beh vi ricordo che il link per monitorare il prezzo più basso lo trovate qui sotto nella descrizione e che l'unico modo che avete per supportarmi, in modo che io possa provare dispositivi sempre più particolari e interessanti, beh è quello di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Vediamo però subito cosa c'è all'interno della confezione. La confezione che devo dire è ben fatta, completamente in cartone, quindi full 100% riciclabile. Peccato che ci siano ancora le pellicole in plastica, ma tant'è. Al momento l'unica azienda che ha messo un confezionamento davvero 100% in cartone riciclabile è Shark. Applauso a lei. All'interno troviamo ovviamente la lavapavimenti con il suo bel manico e la spazzola già montata, ma soprattutto alcuni gadget. Questo piccolo flacone di detergente, peccato perché altri produttori mettono 500 ml di detergente, alcuni anche un litro, qui ne abbiamo solamente 250 ml, non è obbligatorio utilizzare quello specifico, nel senso che alla fine potete utilizzare tranquillamente detergente per pavimenti Mastro Lindo, basta che prendete quello apposito che non faccia tanta schiuma ed è sufficiente utilizzarne davvero una goccia. Dopodiché tolgo l'aspirapolvere perché è interessante farvi vedere in realtà la base, perché abbiamo una spazzolina interessante perché permette poi di andare a pulire tutti i condotti quando smontiamo la spazzola, ma dopodiché abbiamo anche questo piccolo micro tool, spero che voi riusciate a vederlo, serve per togliere eventuali peli incastrati all'interno. Dopodiché abbiamo una seconda spazzola, quindi quando poi rimuovete questa per lavarla, igienizzarla, fate come volete, potete montare subito la seconda, e infine abbiamo anche un secondo filtro perché quando lavate il filtro che avete usato e lo fate asciugare potete comunque utilizzare il secondo filtro. Ma mi soffermo un attimo sulla base perché ho visto due chicche che in realtà non ho visto in altri produttori. Vedete queste fessure che ci sono qui? Servono per buttare aria che permette poi di asciugare più in fretta la spazzola e soprattutto abbiamo questi micro pettini che durante la fase di pulizia permettono davvero di agire sulle setore delle spazzole in modo da rimuovere eventuali residui di sporco o peli incastrati. Sono due piccole attenzioni che insomma ho gradito parecchio. Ma riportiamo la nostra lavopovimenti sulla spazzola, sentite che ha anche i comandi vocali, non appena voi iniziate la posizionate sopra inizia assolutamente la ricarica e vediamo subito come è fatta. Devo dire che i materiali riprendono un po' quelle delle videocamere easy, sono buone, non abbiamo una qualità eccelsa, però la plastica almeno non scriccola e tutto assemblato in maniera solida. A me personalmente non fa impazzire il dettaglio lucido che tende a riempirsi poi di polvere. Già il display è abbastanza sporchino e di macchie impronte appena lo guardate. Più bella invece la parte posteriore che nasconde anche l'altoparlante. Tra l'altro però non ho trovato impostazioni per poterlo disattivare e non c'è la lingua in italiano. Abbiamo il serbatoio per l'acqua pulita, vedete capienza di circa 400 ml. Dopodiché abbiamo il serbatoio dell'acqua sporca che stranamente è più grande rispetto a quella dell'acqua pulita, beh stranamente più o meno, nel senso che poi alla fine questi dispositivi sono in grado di aspirare anche non solo sporco, solido, ma anche liquidi. Per cui è probabile che l'azienda abbia pensato beh se una persona aspira liquidi con questo aspirapolvere probabilmente il serbatoio per lo sporco dovrà essere più capiente. La spazzola che tra l'altro è semplicissima da rimuovere, c'è un pulsante laterale, vedete la tirate tramite questo piccolo gancio, e la andate a sostituire o lavare. Per montarla beh stessa cosa, in questo modo non dovete assolutamente toccarla e questo è secondo me una piccola attenzione al dettaglio che ho gradito parecchio. Display bello, di tipo LCD, luminoso, si vede benissimo, abbiamo tre impostazioni di potenza, quella automatico che devo dire è un po' pigra, dove altre lavapavimenti aumentano la potenza, lei in realtà rimane con la potenza più bassa, il che in realtà è abbastanza sufficiente per pulire nella maggior parte dei casi, mi sarei aspettato leggermente più reattività. Strana la scelta di non posizionare nessuna protezione nella parte frontale, ma come vedremo questo è diciamo una soluzione all'unico vero problema che ha questa lavapavimenti. Detto questo però non è assolutamente un problema perché l'acqua e lo sporco non vengono schizzati, ma adeguatamente recuperati e trascinati verso il serbatoio dello sporco. Nella parte alta abbiamo il manico, ci sono tre pussanti, quello per attivare l'autopulizia, quello che attiva... Rolling brush air dry mode on. Come avete sentito l'air dry mode, quindi il soffiaggio di aria, se mettete la mano qua lo percepite, vedete, e la spazzola gira in modo da far asciugare progressivamente tutta la superficie e sempre questo pussante vi permette di cambiare le modalità quando la lavapavimenti è in funzione e poi il pussante di accensione. Ecco, cara Izi Vizi, il pussante di accensione all'inizio io pensavo che il dispositivo fosse rotto, ho passato un paio di giorni a cercare di capire come funzionasse, perché non è un pussante a singolo click, ma va tenuto premuto per accendere la lavapavimenti. Mossa di sicurezza, mossa di prevenzione, non lo so, però diciamo che nel 2023 mi sarei aspettato un funzionamento leggermente più immediato sotto questo punto di vista. Tra le peculiarità, beh, c'è sicuramente la potenza. 12.000 Pascal lo mettono praticamente a metà strada tra gli aspirapolveri robot di fascia più alta e le aspirapolvere senza fili, ma con un più plus decisamente non da poco che è appunto quello di aspirare liquidi e comunque sostanze gelatinose o collose come il miele, l'olio, grassi e tanto altro ancora. Messo alla frusta, beh, devo dire che ha soddisfatto pienamente tutti i test con particelle, diciamo, della grandezza di un sassolino, di micro sassolini, esempio chicchi di riso, provateci anche voi, o piccoli cereali, li ha aspirati senza farli schizzare ovunque, cosa che invece mi è capitato con alcune aspirapolvere senza fili testate di recente. Questo sicuramente denota un'ottima funzionalità anche per aspirare lo sporco. Tuttavia, non è un aspirapolvere che vi consiglio per aspirare principalmente peli e capelli, perché questi tendono poi a creare una brutta poltiglia sulla spazzola ed agganciarsi sulle setole. Per quello scopo, meglio prendere un aspirapolvere senza fili dedicato. Ottimo, invece, per quanto riguarda l'aspirazione di liquidi e in questo caso, in particolare, si nota la potenza che ha questa lavopavimenti, perché quando noi appoggiamo anche parzialmente la spazzola sul liquido che vogliamo aspirare, vediamo che il liquido si riduce in tutta la superficie in cui si è sparso e questo denota appunto tutta la potenza che questa lavopavimenti possiede. Dopodiché, con il liquido colloso, ho usato la salsa barbecue whiskey, tra l'altro buonissima, devo dire che in due passate ha praticamente tolto qualsiasi tipologia di unto. ed è una cosa molto difficile perché queste salse contengono tanti zuccheri, tante sostanze che comunque ne mantengono anche le caratteristiche di liquidità e collosità. E la lavopavimenti si è comportata davvero molto molto bene. Unica pecca, lasciatemi il termine, è quello che i bordi non vanno ad appoggiare sugli angoli del pavimento, che si crea tra il pavimento e il muro. Questa è in realtà una criticità perché non potete pulire diciamo in una singola passata, però diciamo anche che Izziviz ci ha messo una pezza perché non mettendo nessuno ostacolo nella parte frontale voi di fatto potete avvicinare il rullo al battiscopa e pulirlo. E' ovvio che questo richiede però un passaggio in più rispetto al classico passaggio, alla classica pulizia. E comunque non copre completamente lo spigolo perché essendo il rullo tondo rimane un diciamo mezzo centimetro scoperto. Detto questo però mi sono trovato piuttosto bene. L'autonomia è ottima, oltre mezz'ora di utilizzo reale. La ricarica è lenta come tutte le lavopavimenti, impiega circa 4 ore, però devo dire che tutto sommato la lavopavimenti si comporta decisamente bene e in più è attualmente una di quelle che costa di meno. 327 euro, lo so, non sono pochissimi ma è anche vero che non sono tantissimi considerando soprattutto che nel momento in cui sto registrando il video la Tineco Floor One S3, che comunque è un lavopavimenti che ormai ha 3 anni, costa 427 euro. Probabilmente anche quella verrà scontata durante il Black Friday, ma mettiamo il caso che troviate questa EasyViz RH1 a 280-270 euro durante il Black Friday, durante il Prendei, beh, prendetela ad occhi chiusi perché comunque a quel prezzo non ci sono tante altre alternative davvero valide come questa. Spero con questa recensione di avervi un po' illustrato il funzionamento e le caratteristiche di questa EasyViz RH1 che, devo dire, mi ha soddisfatto. È un prodotto su cui non avevo tantissimi aspettativi, ero più curioso di metterci le mani ma c'entra perfettamente l'obiettivo, ovvero quello di proporre una scopa lavopavimenti che sia efficace, facile da usare e che non richieda troppa manutenzione con tutti gli accessori giusti e con tutto il posto giusto, offrendo peraltro un'ottima potenza di aspirazione massima. Per questo video è davvero tutto, vi ricordo che per verificare il prezzo più basso potete controllare il link qui sotto nella descrizione e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!